Si è conclusa la sesta qualifica dell'anno dell'Euro Formula Open al circuit Paul Ricard di Le Castellet e da registrare la quarta pole position di Harrison Scott, l'inglese DRP cala così il poker anche nelle sessioni di prove ufficiali, un tempo mostruoso quest'oggi 1.59.576, unico a scendere sotto il muro dei due minuti, 857 millesimi di ritardo per l'inquadrato Nikita Troitsky, nuovamente secondo alle sue spalle sulla grille di partenza questo pomeriggio lungo i 5.842 metri del impianto francese che sorge nella regione di VAR, primo dei debuttanti il russo, secondo invece debuttante Yannes Fittia che aprirà la seconda fila davanti ad Ameya Vadia Natan, terza linea per Alex Karcosic e l'italo-canadese Devlin De Francesco, l'italiano Lodovico Laurini in tredicesima posizione, la BVM di Daniel Pronenko in diciassettesima piazza, la bandiera scantica che saluta la quarta pole position dell'anno di Harrison Scott in controllo alla chicane, la gara questo pomeriggio Scott in controllo alla chicane, la BVM di Daniel Pron ます Scott in controllo alla chicane, la BVM di Daniel Pron Bennet Scott in controllo alla chicane, la BVM di Daniel Pron Но la chicane così Grazie.